Siamo rilassati Quindi se vedo che sto perdendo un po' la ragazzo leggermente Sì, ci bisogna ritirare, ecco, è l'utilizzata qua da arrivare Scusi, 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 scusi Tirolo! Tirolo! Oh! Pizzati! Tiene un po' che vuole, tiene un po' Guarda! Si! Oh, guarda! E se scendere! Mi sono 3200 clienti, eh, cazzo! Mi sa! Paglia a destra! Tirolo! Quelle lecazioni che si sentivano, eh, una cosa quando le lecane che si passavano più a questa, che si passava a una valutà, si! E' una valutà, è un po' Grazie a tutti.